Sabato 15 aprile alle ore 15 e 30 vi aspetto qui all'interno del Palazzo di Fraternita per una visita straordinaria insieme con il Centro Guide di Arezzo per prepararci alla visita della Dea Minerva che arriverà qua il 6 maggio prossimo. Nasce dalla collaborazione tra la Fraternita dei Laici e il Centro Guide di Arezzo e Provincia il ciclo di incontri volti a promuovere il patrimonio storico e artistico della città. Un'attività rivolta agli aretini e ai turisti che prenderà avvio sabato 15 aprile proprio in attesa del ritorno della preziosa statua bronzea che sarà esposta dal prossimo maggio in Palazzo di Fraternita. Tra come tema questo, aspettando la Minerva, quindi con ritrovo presso l'ufficio di Arezzo Valle, presso l'emiciclo Giovanni Paolo II, presso le scale mobili, un pochino prima il ritrovo, verso le 15 e 20. E poi insieme alla guida ci dirigeremo presso il Palazzo di Fraternita, quindi dove visiteremo la splendida quadreria, saleremo su per ammirare l'orologio cinquecentesco e poi ammireremo il panorama. Chiaramente sarà presente anche lei. Sarò presente e fermerò l'attenzione anche dei nostri amici sul ruolo della Dea dell'Ingegno, la Minerva è la Dea dell'Ingegno e noi aretini dobbiamo recuperare il nostro ingegno per recuperare anche la nostra crisi economica. Quindi la cultura e l'economia insieme nel giorno di Pasqua qua nel Palazzo di Fraternita.